Buongiorno, benvenuti a Occhio ai Giornali, sono le 7 in punto, noi siamo qui tutte le mattine mentre voi avete in mano la prima tazzina fumante di caffè della giornata, probabilmente noi siamo qui invece che prepariamo i pdf, ovvero i fogli elettronici per la rassegna stampa che vi mostriamo abbiamo selezionato naturalmente per voi alcune notizie all'interno dei giornali, il resto del calino è Corriere Adriatico le notizie principali che troverete poi all'interno dei quotidiani ma noi guardiamo anche il calendario e anche le previsioni del tempo ma partiamo dall'almaracco, vediamo che cosa ci suggerisce il calendario con la grafica che ci propone il regista Riccardo Sora puntualmente sabato 14 dicembre e San Giovanni della Croce il sole sorgerà alle 7.33, tramonterà alle 16.32 previsioni del tempo all'insegna della variabilità ma con tendenza al sereno stamattina venendo qui c'era una luna splendida, un cielo bello terzo tutte le stelle si vedevano distintamente quindi dovrebbe almeno sulla carta presentarsi dopo la sfuriata di ieri del vento una giornata abbastanza serena e limpida nessuna precipitazione è stata data anche se in nottata ci saranno possibilità di brevi e isolati piovaschi le temperature sono in lieve aumento vedete dalla simbologia della cartina sulla costa prevale il sole stessa cosa per domani, domenica 15 dicembre mentre sui rilievi come vedete compare la simbologia della pioggia quindi precipitazioni con fenomeni anche a carattere debole lungo il crinale appenninico però sostanzialmente il cielo sarà sereno o poco nuvoloso gli addensamenti maggiori si avranno sui rilievi anche qui le temperature sono date in aumento per quanto riguarda lunedì invece più o meno la situazione è la stessa anche di queste due giornate ci sarà forse un'intensificazione della nuvolosità vedete le nuvolette sulla costa sono passate da una a due e quindi nei settori centro-meridionali ci sarà poco nuvoloso mentre nei settori settentrionali e centrali ci sarà una prevalenza di nuvolosità però la tendenza è che dal pomeriggio in poi dovrebbe andare verso un miglioramento ci saranno anche qui le precipitazioni sono date più o meno anche per lunedì nella stessa posizione, nello stesso quadrante di domenico ovvero sia sui rilievi sul crinale appenninico anche possibilità di fenomeni intensi quindi il tempo sarà stabile per tutto il resto della settimana e quindi insomma la tendenza è appunto al bello bene, adesso esautorata la questione meteorologica andiamo a vedere le pagine dei giornali come sempre vi facciamo vedere anche due aperture quella di Ancona, il capoluogo di regione e quella anche della provincia di Macerata da dove ci seguono in tantissimi guardiamo l'apertura della pagina di Ancona del resto del Carlino si parla di un evento tragico e disastroso di 37 anni fa come potete vedere dalla foto messa in fotonotizia appunto in apertura oltre la frana 37 anni fa un disastro in tre quantieri siamo lungo l'Adriatica come vedete però c'è tutta una serie di progetti purtroppo ancora non realizzati e si capisce l'epoca dell'evento anche insomma da vedete questo è un camion e questa è un'ambulanza dell'epoca insomma una foto esattamente di quel periodo ma l'apertura è per la cannabis non siamo spacciatori le indagini sul negozio sequestrato ammendamento di legge di bilancio venditori esultano negoziante assolto mi sarei risparmiato un sacco di guai queste le sue considerazioni dalla pagina di Macerata Natale in piazza Mazzini si parla appunto di una piazza dimenticata la protesta dei commercianti tutte le iniziative sono concentrate nella parte alta del centro storico qui siamo in piazza Mazzini e siamo un po' dimenticati ma nella pagina di Macerata l'apertura fotonotizia è per questa ragazza Sofia Tornambene è una cantante di 17 anni che ha trionfato a X Factor quindi Civitanova in piazza per Sofia e lei dice è soltanto l'inizio ora sogno Sanremo Corriere Adriatico anche qui si parla di Sofia adesso sogno Sanremo dice appunto nelle pagine dedicate agli spettacoli ma l'apertura è per la Berloni c'è una proposta un piano industriale che dovrebbe essere presentato a gennaio per il liquidatore Meloncelli dice finanze in affanno ma il marchio ha un appeal commerciale nuova frontiera delle librerie si parla di libri più che negozi sono luoghi di cultura e di incontro aperti alla città e naturalmente resistiamo le librerie sono andate incontro negli ultimi anni a una trasformazione anche morfologica se vogliamo proprio sono cambiati gli spazi è frequentissimo trovare librerie che hanno angoli di accoglienza dove ci si può fermare sorseggiare un tè una tisana e magari sfogliare qualche libro o fare anche piccole discussioni proprio tra avventori una cosa che sicuramente un po' diversa dal passato ma che fa sicuramente cultura e questo lo si deve alla bella iniziativa e all'azione imprenditoriale di questi gestori di librerie che non vogliono che il libro muoia nella pagina del resto del calino di Pesaro mio testamento qui il record nazionale Pesaro prima in Italia in rapporto alla popolazione lo hanno consegnato in 712 praticamente uno ogni 133 abitanti e poi la solidarietà che fa spazio al Natale e all'uccichio delle vetrine e dei lustrini ma la solidarietà è regina in questo periodo cure dentari gratis ai poveri grazie agli studenti delle Benelli vi regaliamo un sorriso di questa bella iniziativa adesso vi darò conto Biotestamento Pesaro è diventato un caso nazionale qui il maggior numero in rapporto alla popolazione Mainardi dell'Associazione Coscioni dice è frutto di un lavoro iniziato nel 2013 depositarlo il mio testamento è facile basta compilare un modulo scaricabile dal web e consegnarlo in comune è possibile anche nella città di Fano c'è anche Fano nella top 10 italiana in generale gli italiani però sono poco informati sulla normativa e qui di fianco trovate un'infografica che vi spiega un po' diversi aspetti ed eccola qua la bella notizia il bel regalo di Natale che i giovani odontotecnici del Benelli fanno alle persone in difficoltà quindi questi giovani odontotecnici rifaranno denti e sorriso alle famiglie in difficoltà una rete di collaborazione con il distretto sanitario comune e medici odontoiatrici e ancora nelle pagine di Pesaro del resto del Calino sapete che nel 2020 andiamo incontro alle elezioni regionali e quindi si affilano un po' i coltelli ci si prepara questa competizione letterale partono i totto candidati e nella regione per il centrodestra che dovrebbe essere espressione di appunto centrodestra spunta Francesco Baldelli di Fratelli d'Italia ecco dicevo c'è stata anche la Meloni recentemente qui che ha detto che il candidato alle regionali per il centrodestra nelle Marche è espressione di Fratelli d'Italia e quindi spunta l'ex sindaco di Pergola e Francesco Baldelli appunto lo vedete qui in questa foto ancora nelle pagine si parla di cronaca cronaca inferno di notte al porto siamo intorno alle 21 in Carata Caio Duilio a Pesaro un incendio si è sviluppato in un'abitazione un cortocircuito dal deumidificatore che ha innescato questa scintilla e i vigili del fuoco per precauzione chiudono la strada e domano le fiamme eccovi qua i librai irriducibili irriducibili della cultura restiamo per tigna e passione viaggio nelle librerie della città appunto come dicevamo prima sempre più luogo di incontro animazione e formazione vedete appunto momenti di aggregazione i titolari che spiegano la loro insomma filosofia commerciale finanzi in affanno ma il marchio ha appeal parliamo della Berloni che appunto il liquidatore dice entro gennaio avremo una proposta e anche un piano industriale sono interessate società sia italiane che straniere e quindi si aprono spiragli per insomma gli 85 dipendenti il mio obiettivo dice non è liquidare l'azienda per chiudere ma per poter ricollocare l'azienda e la sua forza lavoro che appunto abbiamo visto ha un discreto appeal si parla di Natale le iniziative legate a questo periodo in varie parti della città rimaniamo su Pesaro praticamente via Cavour che porta in strada il Natale un format vincente che sfida l'inverno e anche direi io le basse temperature per due domeniche i commercianti tornano a fare festa con la regia di Rocco Bratta tante iniziative proprio per vivacizzare questa strada tutto sarà open quindi insomma copritevi bene perché se fa freddo come in questi giorni ce ne sarà di che a Vallefoglia anche qui mercatini casette Natale appunto in piazza oggi domani a Montecchio le tradizionali iniziative della Provo si sommano agli stand della mostra mercato mostra mercato del tartufo e dell'olio nuovo quindi insomma una commissione di più eventi che sicuramente faranno un bel movimento di ragazzi famiglie giovani insomma e quindi anche gli allievi del centro musica i bambini delle scuole animeranno queste domeniche di festa andiamo a Fano per le pagine del Corriere Adriatico recuperate 9 tonnellate di beni solidarietà per oltre 400 mila euro a tanto a Monta l'attività di non spreco presentata ieri in sala della Concordia dall'assessore al welfare di comunità una operazione che abbina carità e senso civico appunto per eliminare gli sprechi beneficiamo della raccolta in una cinquantina di organizzazioni e 865 realtà familiari che fanno di questo un appeal per tutta la città a favore naturalmente sempre dei più bisognosi la vicenda delle soste a pagamento nuove soste a pagamento anche nella zona mare ha sollevato un gran polverone soprattutto tra gli operatori commerciali attacco diretto all'assessore Fabio Tonnelli che le associazioni di categoria definiscono un assessorato a orologeria ma la decisione è collegiale assessorato a orologeria perché nel comunicato di Confcommercio CNA si legge che praticamente bisogna aprire il giornale per sapere quale sarà il destino dei commercianti quindi aumentano stalli blu e tariffa dura protesta delle categorie proprio contro questa decisione si è parlato di femminicidio per voce di una attrice italiana famosissima e bravissima Monica Guerritore che nel teatro della fortuna ha presentato per passaggi di Natale il suo libro sulla tragedia della contessa Giulia Trigona primo femminicidio mediatico dice Guerritore e le donne prigioniere la vicenda storica ripropone un cliché della violenza di genere di oggi vittime senza difese e quindi insomma un parallelismo su quella vicenda e sull'attualità anche il resto del Carlino sulla pagina di Fano apre sulla questione parcheggi parcheggi a pagamento commercianti in trincea negozianti pronti a partecipare in massa al consiglio comunale possibile protesta nell'assemblea in programma per il prossimo 18 dicembre qui vedete la presidente della Confcommercio di Fano Barbara Marcolini una delle associazioni che ha firmato la lettera di protesta contro questo provvedimento e poi una struttura fanese lo sport park conosciutissima meta di tanti giovani di tanti ragazzi per tanti eventi taglia un traguardo importante primi 25 anni e così si parla di come nacque questo max impianto sportivo e anche ludico e di divertimento ieri è stato presentato il prossimo acquario cittadino nei locali del Fano Marine Center siamo in Sassonia acquario cittadino del futuro ecco come sarà è stato presentato dalla veterinaria Claudia Gili che vedete qui in questa foto con gli amministratori e gli altri protagonisti di questo nuovo assetto della stazione zoologica e c'erano tutti i protagonisti sarà un acquario un po' diverso da come ce lo pensiamo noi non sarà certo appunto come l'acquario di Genova non avremo vasconi con i piragna che nuotano sarà un acquario scientifico sarà un acquario scientifico che sarà utilizzato dai ricercatori che saranno lì nella nostra laboratorio di biologia marina di Fano e quindi sarà visitabile però l'impostazione sarà quella scientifica quindi capiremo come i ricercatori i biologi marini e i veterinari utilizzano l'acquario per i loro studi e per le loro ricerche però comunque sarà un bel momento per vedere appunto alcuni esemplari marini insomma in in vasca nella Val Metauro siamo a Fossombrone segnalati ancora raggiri e furti che non cessano durante i periodi di festa anzi forse alcuni episodi si accentuano anche di più allarme adesso corre sul web vista una Opel sospetta scatta il tantam controllo di vicinato che fa partire una serie di messaggi e quindi arrivano anche i carabinieri però questo accordo di vicinato il controllo del vicinato oppure le pagine o le chat di Whatsapp andrebbero convenzionate con le forze dell'ordine si cerca di fare un po' da sentinelle del territorio però naturalmente l'azione poi di contrasto deve essere ad appannaggio delle forze dell'ordine va benissimo segnalare ma poi chi entra in azione sono i poliziotti o carabinieri sempre controllati nessun richiamo siamo nella pagina di Urbino si parla di sanità ma di pulizie negli ambienti sanitari pulizie in ospedale dopo la segnalazione di un utente la Dusman che è l'azienda convenzionata per le pulizie spiega organizzazione e orari dei dipendenti la responsabile dice è stato un episodio estemporaneo interventi sempre immediati abbiamo riscontri positivi dai pazienti la segnalazione arrivava da una utente che diceva che erano state lasciate alcune zone sporche e quindi aveva segnalato la vicenda ma giustamente l'azienda adesso fa un po' capire come operano in quegli ambiti nella pagina invece del resto del Carlino si parla di un altro tema un po' più solidale la nuova Jolette è stata acquistata grazie all'impegno del Rotary Club del CAI Montefeltro è una nuova carrozzella che consentirà a tutti di esplorare Urbino sapete che Urbino ha una morfologia urbana particolarissima non è proprio a vantaggio delle carrozzine o di chi ha una mobilità ridotta e quindi per poter visitare le bellezze della città Ducale questa Jolette è una carrozzella particolare con una ruota unica andatela a vedere su internet sembra è brutto dirlo un po' una carriola però effettivamente viene usata sui terreni accidentati per consentire proprio a disabili o quanti hanno problemi di mobilità di poter usufruire anche di bellezze naturali è usata moltissimo appunto nella gola del furlo in tante situazioni dove non c'è un terreno pianeggiante e liscio e quindi chi ha questa tipologia di mobilità è in grossa difficoltà la Jolette grande invenzione consente anche a loro con l'ausilio naturalmente di un operatore e di un accompagnatore di poter visitare luoghi anche un po' più impervi e quindi ora Urbino si dota di questa carrozzella per far sì che tutti quanti possano vedere le bellezze della città nella Val Cesano finalmente hanno capito si parla dell'impianto della Fileni siamo a San Lorenzo in campo il comitato del no sul no del sindaco di San Lorenzo in campo all'impianto Fileni dicono convochi subito il consiglio insomma pronte le diffide legali per l'esposizione a rischio amianto presente nell'ex sede acquaterra anche nelle pagine del resto del carlino si parla di questo di questo argomento allevamento si convochi subito il consiglio dopo il no di San Lorenzo il presidente del comitato ambiente vivo valcesano invita subito il consiglio comunale a fare presto dicono chiediamo al sindaco di impedire una volta per tutte questa la realizzazione di questo impianto da Senigallia le ultime pagine che vi faccio vedere per questa rassina stampa vengono appunto dalla città della spiaggia di Velluto si parla di finanza finanza pubblica è un bilancio naturalmente un bilancio che presenta un taglio di oltre 2 milioni di euro 2 milioni 380 mila euro per la precisione che riguarda trasferimenti mancati dal governo centrale ma che dovranno arrivare nei primi mesi dell'anno la somma sarà recuperata dopo la finanziaria e per vedere tutti i conti del comune di Senigallia qui c'è l'infografica che come sempre vi regala ogni informazione utile per acquisire tutto quello che è naturalmente utile per capire il senso dell'articolo andiamo nelle pagine iniziali che abbiamo fatto vedere in apertura di rassegna stampa questa è quella di Ancona oltre la frana si parla nella fotonotizia ma anche all'interno nelle pagine interne di questo disastro che è accaduto 37 anni fa in tre quartieri e con ancora tanti progetti non realizzati e poi amendamento di legge di bilancio sulla cannabis se i venditori esultano dei coffee shop non siamo spacciatori il negoziante assolto dalle accuse dice mi sarei risparmiato un sacco di guai se questo fosse arrivato prima questo amendamento di bilancio Natale in piazza Mazzini una piazza dimenticata per quanto riguarda Macerata la protesta dei commercianti tutte le iniziative sono concentrate dicono nella parte alta del centro storico e qui noi siamo un po' di una zona di serie B per quanto riguarda il Natale ma la fotonotizia è per Sofia Tornambene che ha primeggiato a X Factor e lei dice è solo l'inizio per quanto riguarda invece le pagine che riguardano la nostra provincia Corriere Adriatico Pesaro per la Berloni si aprono spiragli per i lavoratori una proposta e piano industriale a gennaio la PIL dell'azienda c'è interessati operatori economici italiani ma anche stranieri a gennaio un piano industriale e poi la nuova frontiera delle librerie come si sono reinventate un nuovo modo di essere sul mercato con ambienti accoglienti per creare anche momenti di confronto e di relax la tigna come l'hanno definita loro dei librai per non far morire la carta stampata e nelle pagine invece del resto del Carlino di Pesaro la solidarietà in primo piano vi regaliamo il sorriso cure dentali gratis ai poveri grazie agli studenti del Benelli e a una convenzione per dare un sorriso anche a chi ha difficoltà economiche e poi biotestamento questa è l'apertura qui il record nazionale Pesaro in prima linea prima nel rapporto tra popolazione e testamenti consegnati in totale sono stati 712 praticamente uno ogni 133 abitanti e quindi questo è record nazionale bene chiudiamo qui quest'ultima rassegna stampa della settimana grazie per essere stati con noi in prima mattinata e aver aperto la vostra giornata con la nostra informazione ma un saluto anche a tutti coloro che ci seguono nelle repliche nel corso della mattinata e anche alle 13 e 30 grazie buon fine settimana a tutti voi questo è un numero ormai sempre attivo H24 per mandarci le vostre segnalazioni o i vostri commenti grazie ancora buon fine settimana e arrivederci a lunedì